La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha rinvenuto all'interno di un'autovettura pagani 1279 manufatti artigianali non omologati, custoditi in assenza di qualsiasi autorizzazione e giustificazione documentale. L'immediata perquisizione dell'abitazione del responsabile ha consentito ai finanzieri del gruppo di Salerno di scoprire un vero e proprio arsenale di materiale pirico avente potenzialità micidiali, la maggior parte del quale era detenuto in due locali seminterrati ubicati nelle immediate vicinanze di altre abitazioni e luoghi frequentati. Alla fine delle operazioni sono stati sequestrati circa 1700 esplosivi realizzati artigianalmente per un peso complessivo lordo pari a 180 grammi di NEC, il contenuto netto esplosivo. Il responsabile, un cittadino italiano, è stato arrestato in fragranza di reato per illecita detenzione di esplosivi e posto a disposizione della Procura della Repubblica in attesa di giudizio di convalida.